Lunedì 19 giugno 2023, ben ritrovati da Francesco Capo ad una nuova edizione di CortoTG, buon inizio di settimana. Prima di iniziare questa edizione vi chiedo gentilmente di sostenere la nostra informazione indipendente attraverso i riferimenti IBAN e PayPal che la regia ha mandato in sovraimpressione. Se ritenete utile e meritorio quanto stiamo facendo potete anche iscrivervi al nostro canale cliccando il tasto iscriviti sul nostro canale YouTube e diffondendo i nostri contenuti. Grazie di cuore a chi ci sta sostenendo e grazie di cuore anche a chi lo farà. Iniziamo parlando di una notizia che giunge da un parlamentare giapponese, Tal Kazuhiro Haraguchi. Sul suo profilo Twitter ha dichiarato di soffrire di un linfoma maligno dopo la somministrazione della terza dose del vaccino a mRNA. Nel post sul social network datato 27 maggio 2023, Haraguchi ha aggiunto che un suo video in cui discute degli effetti avversi del vaccino Covid insieme ad un esperto di biologia molecolare è stato censurato da Google. Il Giappone è il paese in cui il maggior numero di persone ha ricevuto il vaccino a RNA messaggero ed è anche il paese con il maggior numero di morti in eccesso. Sono preoccupato che i cittadini giapponesi stiano soffrendo e morendo a causa degli effetti avversi del vaccino, ha dichiarato il politico giapponese attaccando nel post Robert Kennedy Jr., il candidato alla presidenza degli statuti d'America e fondatore della Children's Health Defense. Oltre a problematiche cardiologiche e neurologiche, i vaccini Covid potrebbero causare anche leucemie e linfomi. Ci siamo chiesti questo alla luce del post del politico giapponese. Al momento la letteratura scientifica è ancora scarsa sul punto. Abbiamo però riportato i dati di un studio scientifico condotto da ricercatori universitari di Taiwan e pubblicato sulla rivista Medicina nel marzo 2023. Analizzando il caso di una donna di 43 anni che aveva contratto la leucemia linfoblastica acuta dopo la seconda dose del vaccino Covid, i ricercatori hanno affermato di non avere prove sufficienti della correlazione tra la malattia e l'inoculazione. Tuttavia hanno rilevato che le risposte immunitarie anti-spike possano costituire un fattore scatenante per la leucemia. I ricercatori di Taiwan hanno invitato la comunità scientifica ad indagare maggiormente gli effetti avversi sul sangue dei sieri Covid. Una delegazione di leader africani guidata dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha sottoposto al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo una proposta di pace per porre fine al conflitto in Ucraina. Ramaphosa ha esposto i 10 punti della proposta al presidente russo Vladimir Putin in una sessione del Forum Economico di San Pietroburgo. I dettagli della proposta non sono ancora stati resi noti alla stampa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha commentato che l'iniziativa di pace proposta dai paesi africani è molto difficile da attuare. Al momento le posizioni sono molto distanti, ma il presidente Putin ha mostrato interesse a prenderla in considerazione, ha dichiarato Peskov. Il gruppo di paesi africani, oltre al presidente sudafricano Ramaphosa, era composto dal presidente senegalese Maki Sol, dal presidente dello Zambia Akainde Ichilema, dal presidente delle isole Comore Asali Assumani, che guida anche l'Unione Africana, e da rappresentanti di Egitto, Repubblica del Congo e Uganda. La delegazione africana ha incontrato venerdì 16 giugno anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Questi ha respinto ogni negoziato di pace, fino al ritiro totale delle truppe russe dal territorio ucraino. Intanto in Cina è atteso l'incontro tra il segretario di Stato USA, Anthony Blinken, e il presidente cinese, Xi Jinping. Blinken ha incontrato Wang Yi, il massimo funzionario della politica estera cinese. Secondo le indiscrezioni, oggetto del colloquio, sono state le relazioni diplomatiche con Taiwan. La Cina rivendica la propria sovranità territoriale sull'isola del Pacifico e ha annunciato l'intenzione di una riunificazione pacifica. Sul punto il responsabile della politica estera cinese ha dichiarato che la Cina non intende fare alcun compromesso. Il ministro degli esteri di Taiwan, Joseph Hu, ha incontrato a Milano il vicepresidente della Commissione Esteri della Camera dei Deputati, Paolo Formentini. All'incontro ha partecipato anche il deputato Igor Yezzi. Formentini e Yezzi, entrambi deputati della Lega, hanno accolto la delegazione di Taiwan, che è in viaggio in Europa per una serie di appuntamenti, tra cui una tappa in Repubblica Ceca a Polonia e una a Bruxelles per incontrare alcuni membri dell'Europarlamento. Al centro dell'incontro l'intenzione è di aprire a Milano un nuovo ufficio di rappresentanza di Taiwan, oltre a quello già presente a Roma. Il ministro degli esteri di Taiwan ha apprezzato l'iniziativa del governo italiano di inviare nell'Indo-Pacifico la nave da guerra Morosini, che nei prossimi giorni salperà nelle acque del Giappone. Con questa notizia si conclude il corto TG del 19 giugno 2023. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito ad iscrivervi al nostro canale cliccando il tasto iscriviti sul canale YouTube. Ad un prossimo aggiornamento con la vera informazione indipendente. Grazie da Francesco Capo.